Amato, Amaso, Melisse, 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 Amato, Scheda Nulla, Melisse, Melisse, Amato, Melisse, Melisse, Amato, Melisse, 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 Amato, Melisse, Melisse, Amato, Nulla, Amato, 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 Bianca, Amato, Bianca, Amato, Amato, Nulla, 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 Bianca, Amato, Nulla, se siccome non c'è ovviamente il quorum per l'elezione del Presidente, se passiamo alla distinzione delle schede e poi procediamo alla seconda votazione.